Nel video di oggi affronteremo veramente un tunnel profondo dove troveremo un potere speciale, cioè Kirby Fuoco, ma ci sarà un piccolo intoppo perché non troverò tutti i segreti, ma alla fine ecco qui com'è andata. La scorsa volta ci siamo lasciati appunto facendo la pianura urbana, ora andremo nel tunnel profondo, completare il livello salva i walledì nascosti e poi le altre missioni che non ho minimamente idea di cosa siano. Ma ehi sono qui per questo per dimostrarvi che non è per niente difficile e lì vedo un nuovo potere, mamma mia allora innanzitutto vai fammi prendere lui e poi sputarlo anche perché si. Allora, dobbiamo stare molto attenti perché potrebbe esserci qualcosa di nascosto come qui, eh già, ok non c'è niente qui, l'oro non li posso prendere ma adesso acquisiamo il nuovo potere, mannaggia a me. Ok, Kirby Fuoco, uno dei miei preferiti. Allora, ok con B possiamo fare la fiamma ed è veramente OP. Vediamo se qui possiamo fare qualcosa, no, ma vediamo qui, ok. Mamma mia, guardate quanto è devastante, non solo illumina che è una cosa OP, ma c'è, impressionante. Allora, dobbiamo sicuramente accendere, ok, i quattro interruttori. E qui c'è una bomba, ok, ed ecco un segreto per ottenere appunto tantissime monete. E allora, tu, rimuoviamo l'abilità perché io c'ho tanta, rimuoviamo l'abilità perché c'ho tanta voglia di capire chi sei. Ok, niente, non è nulla di utile, vai, sempre Kirby Fuoco, ok, mamma mia, veramente bellissimo. Eh, per favore, ok, perfetto. Andiamo avanti, verso una nuova rotta. Allora, perfetto, lì ci abbiamo un altro power up, sempre di Kirby Fuoco. E dobbiamo stare molto attenti. Allora, voglio capire come poter fare qualcosa di più. Ok, interessante, se noi alimentiamo sempre di più il fuoco, si crea qualcosa di veramente interessante. Ehm, ok, io voglio assolutamente prendere quelle monete. Ok, mamma mia, peccato, peccato. Ok, uh, molto interessante. Facciamo veramente tanto danno così. Facciamo la boccomorfosi perché sicuramente qui c'è un wall ld nascosto. Ok, no, cos'è? Ok, un passaggio segreto. Eh, ragazzi, ok. Ah, mannaggia. Ok, super cometa. Super cometa, super cometa, vai. Allora, ci prendiamo il tortino per curarci. E qui abbiamo un wall ld che abbiamo salvato. Il primo, il che mi sta molto bene. Perché io, cioè, siamo veramente forti. Ora, c'è qualcosa da sapere qui. Mamma mia, che rischio. Ok, devo capire un attimo bene come funziona il bifuoco. Ma, devo dire che mi sta piacendo. Soprattutto questo attacco, la cometa, tipo. Ok, qui non c'è niente altro da sapere. Se saltate così fate lo scatto di fuoco. Il che è veramente buono. Sto, voglio guardare... No, ho sbagliato. Voglio un attimo guardare i comandi di Kirby Fuoco. Ok, non c'era niente di speciale. Ok, possiamo fare il doppio scatto per andare molto più velocemente. Eh, non ci sta per niente male, sta cosa. Ok, perfetto, vai. No, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Vola, 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 Kirby. E ho perso un botto di danno. Ok, Kirby non può volare più di tanto. Qui, a quanto pare. Dobbiamo stare molto attenti, eh. Vai, perfetto. Ok, let's go. Allora, sicuramente qui c'è qualcosa. Mi sembra una zona troppo importante. Quindi stiamo bene attenti perché potrebbe nascondere veramente qualcosa. Eh, what? C'era qualcosa? Allora, a me sembra che c'è qualcosa. Non lo so il perché, ma mi sembra così. Ma andiamo avanti. Mamma mia. Ok, passiamo alla prossima parte della mappa. Ecco una lanterna, il che è molto positivo. 2 su 4, va benissimo. E dobbiamo stare assolutamente attenti. Ok, ci prendiamo. Ah, mannaggia. Stiamo molto attenti, come stavo dicendo. Cheat. Ah! Ok, sto perdendo un botto di danno. Ok, va bene. Allora, ma se io faccio così. Ci deve essere un modo per potenziare. Cioè, per forza. A parte che le forme evolutive ancora non ce li abbiamo. Il che mi impressiona tanto. Va bene. Non devo fare una cosa azzardata. Ok. L'abbiamo fatta. Fuoco! Let's go. Perfetto. Abbiamo fatto pure questa parte qui. Che ci porta qui sopra. Dove c'è... Un collezionabile. Attenzione. Una figure. Che non ce la facciamo mai mancare noi. E tutto. Penso che vada per il meglio. Allora. Vediamo. Continuiamo ad andare avanti. Ti prego, Kirby. Mamma mia. Attenzione. Ok. Facciamo così. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Mamma mia. Sto perdendo Kirby fuoco in men che non si dica. Tu. Essere ignobile. Vai via. Mamma mia. Sto rischiando la vita che il bifuoco è proprio potente. Ok. Ok. Perfetto. Let's go. Andiamo via. Assolutamente. Devo per forza in qualche modo sbloccare questo passaggio. Come? Non ho la minima idea. Ma. State tranquilli. Lo scopriremo a breve. Eh no 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 no. Mi sembra strano che in questa parte non ci sia neanche. Attenzione. Cos'è quella cosa lì? Cos'è quella cosa lì? Infatti. Segreto. Lo sapevo. Lo sapevo che dovevo aprire qui. Perché molto probabilmente c'è il secondo wall del D. E noi dobbiamo liberarli tutti. Ricordiamocelo. Esatto. Perfetto. Tutti i segreti li troverete solamente su questo canale. Perché. Perché sì. Ok. Perfetto. Andiamo avanti col livello. Mamma mia. Ti prego vattene. Allora. Questa voragine. Cosa starà a significare? Io non lo so. Mi butto? Meglio di no. Perché se mi buttavo molto probabilmente finivo. Nei guai. Ok. Ok. Perfetto. Tu via. Anche se Kirby molla. Non sarebbe per niente male. Allora dobbiamo accendere la miccia. Dov'è la miccia? Ok. Mamma mia. Questa è una prova a tempo. Ok. Perfetto. Dobbiamo salire qui dentro. E abbiamo fatto assolutamente in tempo. Mamma mia. Va benissimo. Perché qui c'è il terzo world di nascosto. Non era tanto difficile da trovare. Ma. Ehi. L'abbiamo trovato. Ok. Adesso appunto ci consentirà di andare di qua. E noi sconfiggiamo il cattivo. Stiamo per finire già il livello in teoria. E noi non abbiamo più trovato. Attenzione. Non abbiamo più trovato. Stavo dicendo. Mannaggia. A loro. Le luci. Che dovevamo accendere. Ok. Attenzione. Perché il bifuoco è troppo forte. Mamma mia. Ok. Questa è una boccomorfosi. Ma prima di fare ciò. Bisogna assicurarsi che. Ah. Lasciamo stare. Guarda. Vabbè. Facciamola boccomorfosi. Va? Ok. Bello. Kirby scala. Non l'ho mai visto. Cadi sopra. What? Meopi. Eopi. Questa cosa qui. Mamma mia. Possiamo fare tutto. Allora. Sono sicuro che. Per continuare. Bisogna andare di qua. No. Forse questa cosa. È semplicemente. Aspettate. Sicuramente c'è qualcosa. Sicuramente c'è qualcosa. Gente. Attenzione. Ah. Non posso più andare. Più di così. Non posso. No. Ho perso. Allora. State molto attenti. Ok. Boccomorfosi. Subito. Grazie. Perché potete perdere. Il vostro. Potere. In mente. Non si dica. In realtà. Mamma mia. Ma siamo troppo più. No. Cioè. Dai. Ok. Molto interessante. Questa cosa qui. E adesso. Let's go. No. 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 Ti prego. Ok. Collezionabile. Il che ci sta perfettamente. E adesso. Gente. Abbiamo perso. Un po' di vita. Un bel po' di vita. No. Kirby. No. Non fare questo errore. Ti prego. Allora. Io voglio. Fare la Boccomorfosi. Perché. Sì. Cioè. La cosa. Innovativa. Di questo gioco. Bisogna. Utilizzarlo. Cioè. La Boccomorfosi. Vai. I nemici. Praticamente. Non ci fanno più nulla. Con la scala. Quindi. Perché non usarlo. Allora. Siamo invincibili. Qui. Ci chiede. Il Kirby. Fuoco. Lì. Dobbiamo fare. Questa cosa. E. Kirby. Lancia. Potrebbe servirci. Sinceramente. Non lo so. La Boccomorfosi. Dobbiamo farla. Assolutamente. Io direi. Di lasciarla. In questo. Punto. Qua. Perché. Se no. Capite bene. Vai. 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 Eh. Eh. Lo sapevo io. Lo sapevo io. Che. Abbiamo poco tempo. Ma. Ce l'abbiamo fatta. Ugualmente. Il che. Mi sta. Molto. Ma. Molto. Bene. E qui. C'è un altro. Waller D. Ok. L'abbiamo salvato. L'ultimo. Waller D. E qui. Mi sa che. Ci stanno. Delle cose. Mamma mia. Quanti. Gettoni. Stella. Il che. Io. Non mi lamenterei. Per niente. Ok. Perfetto. Scendiamo. Da questa parte. E qui. C'è. Il bilancio. Ok. E adesso. È ora di fare. Qualcosa. Di veramente speciale. Perché lì. Come state vedendo. C'è Kirby. Spada. Ma. La cosa che non mi convince. Per niente. È una. Ok. È giunto il momento. Di affrontare. Questi piccioni. Vai. E abbiamo liberato. Tutti i Waller D. Ok perfetto Purtroppo non siamo riusciti a fare l'ultima missione Rimuovi il poster ricercato Abbiamo trovato il collezionabile pomodoro maxi La macchina Il che mi sta troppo simpatico E niente I wall ld che avevi salvato hanno trovato una nuova area misteriosa Vai dal via del tesoro La potrebbero esserci oggetti radii Vai in esplorazione Questo sicuramente lo faremo Ma Ehi Io devo rimuovere il poster ricercato E ve lo devo fare assolutamente vedere Ed eccolo qui In realtà si trovava molto più vicino di quanto noi pensavamo Perché praticamente è alla fine Vedete quel poster in alto Beh dovete toglierlo Per avere il 100% in questo livello Ma ehi Può capitare di sbagliare anche ai migliori Ed eccolo qui E abbiamo rimosso pure il poster Noi ci lasciamo qui Ma domani statevi pronti Perché ci sarà un episodio leggermente più lungo Dove affronteremo un altro livello E un boss Di che boss stiamo parlando? Scrivetemelo sotto nei commenti E noi ci vediamo in prossimo video Pronti? Let's go! E noi ci vediamo in prossimo video 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 E noi ci vediamo in prossimo video